Parma, Borgo San Biagio numero 6, a due passi da Via Cavour, dalla centralissima Via Cavour e da Piazza del Battistero. Un luogo dove fare colazione, merenda e perché no, una pausa pranzo salutare, è fantastico! Siamo alla Yogol, storica yogurteria di Parma. Appena consegnate, albicocche freschissime, come tutto il resto della frutta. E quando arriva la frutta, dove va? Viene proprio qui, in questo laboratorio, a misura di una, massimo due persone. E che cosa ci facciamo? Le taglizziamo, le mettiamo in Macedonia, le facciamo cuocere, le mettiamo insieme ad altra frutta, pure semplici così. Perché è proprio questa la geniale idea che ha avuto la signora Nara più di vent'anni fa. Abbinare una cosa semplice ad una cosa meravigliosamente gustosa. Vi dicevo, un'idea semplice, gustosa e altrettanto geniale. Sono prodotti, l'idea è questa. Dare un prodotto salutare che possa essere una pausa pranzo, una merenda. Non avete idea? Non ci siete qui oggi, ma sarà la quinta o la sesta volta che tentiamo di finire il video, proprio perché continuiamo a essere interrotti dal crusso dei clienti. Ed è meraviglioso, perché addirittura i bambini chiamano la signora Nara per nome. Ed è questa, appunto, quel qualcosa che non deve cessare. La signora Nara vuole andare in pensione, più che legittimo. 24 anni di attività, direi che ha fatto il suo. Però, di contro, vedere questa meravigliosa situazione, dove poter consumare direttamente qui. Oppure, perché no, portare via anche da asporto, è tutto strutturato. Ha una redditività altissima. Contattatevi, mandatevi un whatsapp, mandatevi un'email, i miei contatti, rosella e arcolani, 351-732-4868, oppure mi mandate una mail, rearcolani-remax.it Io Gold, deve continuare.